Musica Bentornati fratelli di tutututututuberanza Siamo di nuovo su Call of Duty Black Ops 3 Io fratelli oggi vi porto un video esclusivo all'interno di Youtube Italia Un mega pack opening su Call of Duty Black Ops 3 E lo ripeto Call of Duty Black Ops 3 Questo significa ragazzi che ve lo dico da adesso Voglio che questo video lo condividiate al massimo Cioè proprio vi si deve fondere il tasto condividi E a quel punto vi potete fermare Allora andiamo su molti giocatore Partita pubblica va bene Mercato nero Ragazzi andremo nel mercato nero Perché come molti di voi sapranno In questi giorni ci sono state le cripto chiavi doppie Come ricompense Ebbene fratelli io per voi Pensando a voi e in voi Ho accumulato ben 231 Cripto chiavi Praticamente io mi sono sfondato il cervello a giocare Per poter poi Fare un mega pack opening Qui nel mercato nero Mamma mia ragazzi Quindi tasto condividi a palla Io mi piace non ve li chiedo Regà perché non sanno come gli altri Ma vi chiedo di condividere i video Iniziamo subito subito Me li finisco tutti e 231 Perché questi li ho accumulati per voi Via Lancio il rifornimento 30 cripto chiavi Fammi vedere che cosa mi dai Forza Io ragazzi non ho praticamente parole Per questa merda Ma non importa Non importa ragazzi La strada è ancora È ancora È ancora lunga La strada Borga buzzona La strada è ancora Lunga Vai Eccolo qui Finalmente Teschio pirata Scusa Bello Un emblema Bellissimo Pazzescamente pazzesco Bene va bene Ok vai Apriamone un altro Mamma mia Fammi vedere tizio del mercato nero Raro Epico Mimetica XR2 Madonna Che spacca culi Lcar 9 Che è una delle armi Che uso spesso su zombie E poi abbiamo Ti spezzo La Seraph Madonna Te spezza Quanto siamo 150 Ancora ragazzi Calano forte Stando comunque Continuerò a Ad accumularle Un'altro leggenda Locus Caricatore aumentato Non ha senso Bellissima Questa mimetica Dell'RK5 Bellissima Non mi sta dando niente Però I vestiti I vestiti Dei personaggi Che sono le cose Che vorrei di più Ok Qui non c'è Nessun epico Io Non ho parole Va bene Vai Vediamo Proviamo a prendere una da 10 Che comunque molti mi hanno detto Che conviene più Quelli da 10 Che Quelli da 30 Niente Niente Inbossi Male Però raga Poteva andarmi Leggermente meglio Ma non fa niente Proviamo l'ultimo Monnezza Ah ecco Vedete Quello lì Vedete Sky Il tema di Firebreak Io praticamente Mi aspettavo Molte di queste E invece Non mi sono state date Abbiamo comunque 34 cripto chiavi Ancora Quindi possiamo aprire L'ultimo Vediamo un po' Che cosa ci porta Babbo Natale Bruco Tiratore scelto Locus Caricatore rapidi Ma Che cazzo ci faccio Vabbè dai Non importa Vai Usciamo Andiamo su brucia duplicati Vediamo se magari C'ho qualche duplicato Da bruciare Così che Recuperiamo qualche Cripto chiave Siamo a 14 Posso aprirne uno da 10 Vai Vediamo un po' Lui ha un ottimo Presentimento Io per niente E infatti E infatti E infatti Bene Il mio presentimento È stato migliore del suo Perfetto Dopo questo Mega Pack Opening Io darei un attimo Un'occhiata qua A vedere Quello che possiamo Sbloccare Vanto Ruggito Che fa Che schifo È una delle Una delle mosse Dei vanti Che mi stanno Puse le balle Aspetta però Specialisti Vediamo un po' Qui Il prophet Non ce l'ho Neanche questa Neanche questa Va bene No Non è che non ce le ho Non le ho risbloccate Perché sono passato Al prestigio 2 Dunque fratelli Ora ci facciamo Una bellissima Partita In Nucleo Deathmatch A squadre Go Vediamo un po' Magari qualche partita Che non è ancora iniziata Perfetto Combine 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 Dunque fratelli Io mi sono prefissato A livello mentale Celebrale Di sbloccare Tutte le mimetiche Delle armi Quindi praticamente Adesso sto facendo I fucili d'assalto Nel HVK Ho già preso La mimetica oro Adesso sto cercando Di prenderla Con il Man of War E di portare avanti E di portare avanti L'M8 Che sarà il fucile Del giorno Quindi praticamente Utilizzeremo L'M8 Vediamo poi come Ce la caviamo Regà Perché non è un fucile Che Negli spazi piccoli Faccia molti danni Perché se davanti Vi trovate uno Con una mitraglietta Vi spacca Praticamente Di mazzate A meno che Non gli fate Una raffica Dritta in fronte E questo Non è proprio Il mio caso Comunque Combine Sarà la mappa Predesignata Si dice predesignata Oppure Sarà la mappa Del prossimo Scontro Avvio tra 6 5 4 3 2 1 Go Eccoci qui Pronti A caricare Le armi M8 Madonna Non mi ci sono mai Trovato tanto bene Con l'M8 Raga Non lo so Tutti E' fortissimo E' power Bo Raga Io preferisco Sempre Il Menowar O l'HVK Dunque Vediamo se Passa qualche Pesciolino rosso Da qui Secondo voi Secondo me No Però ci passo io Questa volta Lo faccio io Il pesciolino Vediamo un po' Qui non c'è nessuno E lì c'era Oh no Cazzarola E questo ovviamente Mi ha visto E mi ha detto Bella per te Ti squaio Madonna Scappa Madonna Scappa Madonna Madonna Come me la sto Vede brutta E quello come Cazzarola C'è Boni Oddio Ma quello Di avangiro Col pompone Attiviamo subito L'UAB Raga Perché Madonna Quello che cazzo Quello che mi ha fatto Non uccidermi Scusa Io non No Devo fare assolutamente Un'uccisione Non mi uccidete Mo Che sto Voglio la serie Oh cazzo E ok Sto in serie Sto in serie No Guarda questo figlio Di merda Che hai fatto Vai Voglio il Mi Bombardamento Orbital Vai Qua Che merda Che merda Ah eh Qua ne arrivava Ne arrivava due Ne sono arrivati Non gli potevo fare Praticamente Nulla Nell'area Aspettate Minaccia risolta Aspettate Ancora un altro Po Merda Eh raga Ve l'ho detto Se mi incontrate Davanti Una mitraglietta Vi sfascia Proprio Eh porco Tu e mori Perché non more Oh Così Olio Oh Guarda questo Dovevo ricaricare Il fucile Pezzo Pezzo Di cacca Ma da là Entra uno E lo apre Ah Stavo per fare La mia super Maledizione Oh raga Io vi giuro Che I bomba Ve li metterei Tutti quanti No Voi Ovviamente A questi Che lo usano Glielo metterei Tutti quanti Su per il culo Steam So proprio C'avete presente Le persone Quelle che proprio Non sanno giocare E di ripiego Vengono da minecraft E vengono a rompere I coglioni Qui a cod Ecco Sono quelli Che usano il pompa Quelli che proprio Non sanno giocare E allora dice Beh dai Andiamo a scassare La minchia La gente Utilizzando il pompa E facendoli Bestemmiare Oh no No Non avrei dovuto Sparare Probabilmente Mi sta per salire Il crimine Ok So che adesso Arrivano da dietro Meno male La mia super Altrimenti Ah Uh Questo che c'ha Vesper Mio subito A me vi è troppo Bel Vesper Rega Non so voi Ma Io lo adoro No Ma perché Mi ha preso in testa Il cuda Vabbè Lo so fa 18-8 Beh oh Beh oh Beh oh Uh avvio stile Individuato Uh avvio stile Individuato Sei sicuro Ricontrolla ora Cioè rega Io non ho ucciso Quello Scandalo Vai vai Torniamo Porca miseria Ci arrivano da qui Bastardo Bastardo Nel culo Te lo metti Il pompa Lurido Schifoso Che gentaccia Che gentaccia Fantastico 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 Quanto ho fatto 19-11 Vergognoso Guardate 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 Questo Guardatelo Guardate Ma glielo mando Un messaggio Mi preoccupate Ma glielo mando Vi preoccupate Ma glielo mando Guarda Prestigio Che prestigio è questo Il 3 6 Ma gli scriviamo Ovviamente ragazzi Non posso farvi vedere Quello che gli ho scritto Spero solo Di non ritrovarmi Bannato Ancora Ma non me ne frega Perché per gente Che utilizza il pompa Mi faccio bannare volentieri Però 4 belle paroline Messe in fila In inglese 4 belle parolaccette Ce le vogliono Dunque fratelli Con questo gameplay Non mi rimane Che darvi L'appuntamento Con il prossimo video Sempre qui Su Tuberanza Insieme a Call of Duty O chissà Quale altro giochino Mi raccomando Sempre qui E condividi Ciao